Per tutti è questa la vita, perché come uno una volta mi ha detto, forse non terremo fuori grandissimi campioni, ma probabilmente dei grandi uomini nel nostro futuro. Per quanto riguarda la società siamo in crescita, in numeri, chiaramente dobbiamo migliorare perché non siamo perfetti, per il resto chi lo è perfetto. Quello che possiamo fare è dare il nostro massimo contributo, dare sempre il massimo durante tutta la stagione e cercare di continuare a fare bene. Questo evento secondo me è importante perché è un connubio, insomma, tra gli eventi.